vi ho mostrato in un video che vi lascio qui sopra acronis cyber protect questa sit di acronis ci permette di eseguire il backup delle nostre visual machine direttamente anche in cloud volendo e ci permette di avere un disaster recovery veramente immediato perché vi permette come vi dicevo nel video di avviare la macchina direttamente in cloud se non abbiamo bisogno di queste funzionalità o comunque sia vogliamo utilizzare un software di backup per effettuare backup internamente quindi su un nas sul dispositivo sb eccetera eccetera vi consiglio l'utilizzo di vim backup ve lo voglio un attimo mostrare praticamente una volta effettuata l'installazione vi troverete la possibilità di utilizzare una console la console può essere installata anche in altri dispositivi quindi client non necessariamente nello stesso server che ospita bim che vi permette per l'appunto di gestire centralmente quindi più console da un unico dispositivo se andiamo aprire ci troviamo di fronte a una schermata come questa l'interfaccia grafica non è molto intuitiva all'inizio poi una volta che ci avete preso mano vedrete che risulterà invece molto semplice da utilizzare avete nella schermata home l'elenco dei jobs e quindi dei lavori che dovrà effettuare la nostra installazione di vim una volta effettuato aggiunto diciamo il primo server o workstation computer quello che volete all'elenco dei dispositivi e assegnato adesso un backup comparirà un'altra voce che si chiama disc conterrà quindi tutte le immagini dei vostri backup nella scheda invece inventory potete andare a a visualizzare quelli che sono i dispositivi aggiunti al vostro vim backup application quindi tutte quelle macchine su cui è stato richiesto e non dico il deploy dell'agente però la l'aggiunta a vim di quella macchina quindi quella in quella macchina è stato installato il pacchetto di vim nella scheda invece backup infrastructure potete andare a specificare delle repository in questo caso vedete che ho la la repository di default che vi inserisce vim ovvero c backup in fase di installazione vi verrà vi verrà chiesto e da qui potete andare aggiungere eventuali dispositivi che possono essere dei dispositivi come vi dicevo attaccati usb direttamente o attaccati in rete per esempio un nas o qualcosa che ci permette per l'appunto di di essere utilizzato come periferica di archiviazione vi consiglio di utilizzarlo per l'appunto in nfs oppure in escasi ma andiamo a provare quindi a inserire il primo il nostro primo job quindi andiamo a creare un backup di una macchina windows se andiamo a selezionare virtual machine piuttosto che macchina windows e andiamo a specificare un server che può essere sia essai che hyper v e automaticamente lui vi andrà a inserire nel nell'inventory tutte le macchine ospitate da quel server non che il server stesso andiamo a inserire manualmente una un server una web station se andiamo a selezionare web station vedrete che avrete la possibilità di utilizzare solo l'agent quindi lui installerà una sorta di aso entri nella macchina nella selezione server andiamo a selezionare nell'installazione server manage it by backup server o è possibile e andiamo avanti andiamo a dare un nome a questo tipo di backup andiamo avanti ancora e a questo punto c'era di inserire eventuali server o web station da aggiungere possiamo specificarlo tramite indirizzo ip possiamo specificarlo tramite nome dns e possiamo andare a specificare delle credenziali per autenticarci quindi se lo andiamo aggiungere c'era un utente password di ovviamente un utente amministrativo lo potete utilizzare sia potete inserire sia un utente locale che un utente di dominio a proposito una un piccolo appunto se lo installate su una macchina virtuale vi sconsiglio di mettere quella macchina dominio perché se ci dovessero essere dei problemi ad esempio sulla macchina domain controller e il domain controller non attivo ok che in un modo e l'altro riuscite comunque ad accedere a quella macchina anche se il controller di dominio non risponde però se dovete fare un restore io vi consiglio di non andare a complicarvi la vita quindi lasciatela magari fuori dominio andiamo a fare un attimo una prova aggiungere proprio questo computer quindi andiamo ad aggiungere questo questo pc andiamo avanti a questo punto mi viene chiesto se voglio effettuare il backup dell'intero computer di includere eventuali drive usb attenzione perché il driver usb se viene trovato nel momento in cui parte il backup lui lo includerà nel backup se ovviamente è scollegato lui lo ignorerà completamente back up era tutto quello che troverà come dispositivo removile collegato in quel momento backup a livello volume quindi possiamo selezionare solo eventuali partizioni in sistema o di file quindi solo alcuni file andiamo avanti ci chiede se vogliamo utilizzare un storage locale per effettuare il backup una cartella condivisa un repository di vim quindi quelli che abbiamo aggiunto quasi un backup in practice store andiamo avanti quindi selezioniamo quello il dns o il nome della della macchina vim vi consiglio specificare l'ip nel caso in cui avete mari più bulan in modo che se dovete effettuare di macchine il backup di macchine su altre vlan riescono a raggiungere il server bim andiamo avanti ci chiede per l'appunto qual è il nostro backup repository da utilizzare per questo genere di backup quindi nessuno vi vieta di creare più job e distribuirli in repository diversi ok ci viene chiesto per quanti giorni mantenere il backup possiamo andare a specificare delle impostazioni aggiuntive su avanzate infatti possiamo andare a dirgli di creare un backup sintetico completo e in quale giorno farlo e varie altre opzioni tra cui su storage ricordatevi che potete selezionare l'ottimizzazione del storage incrementare diciamo le prestazioni a seconda che la storia sia in locale sia l'anno o sia addirittura in van ed eventuali notifiche per email potete potete andare a selezionare delle notifiche personalizzate e andare a specificare se volete essere notificati su solo successo su successo su errore o anche su attenzioni possiamo andare a specificare di avere una redemption fantastico quindi possiamo andare a dirgli di mantenere magari che ne so un backup mensile di questa macchina in modo da avere un un archivio diciamo storico di emergenza magari per andare a vecchio file cancellato che non è stato che non vi è stato comunicato in poco tempo e quindi potete andare a prendere dall'unico backup storico che avete la cache di backup se la volete attivare o meno nella sezione schedule possiamo invece andare a impostare quando eseguire il nostro backup quindi possiamo impostarlo giornalmente e andare a specificare quando a che ora se il con nostro computer ci dice è spento in quel momento possiamo o scrivere backup o seguire una volta che verrà acceso e se dobbiamo spegnere ivernare o mantenere acceso il nostro computer al termine del job possiamo andare a specificare invece di effettuarlo quando blocchiamo il computer quando facciamo il logo off oppure quando connettiamo fisicamente un dispositivo di backup che può essere per esempio un disco usb possiamo andare a specificare nel caso ad esempio di un rdx di espellere automaticamente il dispositivo una volta effettuato il backup possiamo andare a specificare anche di non effettuare più di un backup magari giornaliero nel caso in cui uno di questi eventi si scatenino più volte al giorno ok fatto questo siamo pronti per andare a effettuare il nostro primo backup come vedete è stato aggiunto alla lista lui andrà ora a scansionare il nostro computer assegnato e andrà a creare quindi delle sue schedulazioni qui vediamo che il nostro client è stato aggiunto all'elenco dei client se clicchiamo col destro facciamo agent install backup agent lui automaticamente installerà nel nostro dispositivo locale remoto quello che sia l'agent con il programmino il software ino che permette a bim per l'appunto di comunicare con questo computer comodissimo perché se ad esempio tutti i nostri computer sono a dominio voi siete gli amministratori potete andare installare il client senza andare a girare tutti i computer o andare a chiedere password agli utenti eccetera eccetera ok ho seguito il backup come vedete praticamente terminato è al 99 per cento se vediamo che è già apparsa la voce disc avete un punto di restore quindi a mano a mano che lui effettuerà il backup nei vari giorni a seconda di quanti giorni abbiamo prestato come abbiamo fatto vedere prima segnerà più uno o più punti di restore come poter ripristinare possiamo cliccare col testo a fare un instant recovery quindi andare a ripristinare proprio l'intera macchina virtuale su già un'host hyper v o i 6 sai possiamo poi esportare il contenuto del disco come virtual disk quindi andare a creare ad esempio un po hdx per andarlo a tirare su su una nostra installazione sul nostro post hyper v oppure andare a ripristinare lo direttamente addirittura su ec2 o su e per avere la disponibilità immediata nella macchina anche su un'installazione addirittura in cloud cosa l'interessante vim rispetto ad altri software di backup prima di tutto che possiamo andare a creare un supporto di ricoveri ora non lo fa fare perché ancora in esecuzione il job benutile che sto aspettare se vado a creare un ricoveri media possa creare una iso che poi posso masterizzare utilizzare su una chiavetta usb per andare a fare il boot direttamente dalla macchina danneggiata che può essere anche sostituito interamente e andarmi a ripristinare l'intera installazione direttamente da rete o da supporto rimovibile oltre questo vim vi permette di effettuare il backup di macchina virtuali a caldo senza necessità di una licenza perché fino a 10 istanze è gratuito cosa sono istante sono macchine proprie può essere server windows può essere una macchina virtuale può essere una webstation è fantastico anche perché permette di backupare macchine linux quindi andando installare l'agent su linux possiamo effettuare un backup di macchine intere linux o anche lì solo di file mac computer addirittura quindi diciamo il software completo a 360 gradi addirittura gratuito nell'edizione community ovviamente non avete supporto e l'assistenza però fino a 10 installazioni è completamente gratuito e soprattutto è molto molto affidabile è un software che esiste da ormai anni e anni difficilmente verrà sul classato dalla concorrenza come vi dicevo nel video di agronis che un'ottima soluzione ma comunque con dei costi sicuramente importanti e diversi io personalmente lo trovo veramente fatto bene e la cosa bella è che non anche per ripristinare anche semplicemente per andare a ripristinare ad esempio un database se noi andiamo qui andiamo a cercare vim vediamo che abbiamo diversi utili di non possiamo dare ripristinare addirittura dei database e sql server partendo dall mdf diciamo che come sottore è veramente ma veramente completo l'interfaccia grafica non è granché bisogna un attimo prenderci mano ma una volta capito la logica di come sono impostati i menù è molto semplice da utilizzare rimane molto semplice vi permette ovviamente di fare anche le repliche ma come vi ho detto nel video di hyper v preferisco farle direttamente con sistema microsoft in quanto è già integrato per i a 6 sai marita un discorso completamente a sé spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto iscrivetevi al canale mettete un like attivate la campanellina ciao alla prossima